Occhio ai giornali, buongiorno, ben ritrovati cari telespettatori di FanoTV sul canale 17 del digitale terrestre, in tutta la regione Marche c'è occhio ai giornali, la rassegna, o meglio il commento alla stampa del giorno che comincia come sempre con il santo di oggi, lo vediamo con la grafica, oggi è San Floriano, il sole è sorto al 5.57 e tramonterà alle 20.19, adesso uno sguardo al tempo. Il bollettino questa mattina è della protezione civile delle Marche che per oggi prevede un cielo sereno, poco nuvoloso, con possibilità di precipitare precipitazioni isolate e soprattutto brevi piovaschi nel settore meridionale della regione, domani invece cielo sereno, poco nuvoloso, così come giovedì 6 maggio, situazione piuttosto tranquilla. C'è in primo piano sul Corriere Adriatico di questa mattina, edizione di Pesaro, la questione degli alberghi, o meglio l'incognita che riguarda le vacanze, le vacanze, ci saranno turisti che verranno nella nostra provincia, provincia pesarese urbinate, oppure comunque più in generale ci saranno turisti che verranno nella nostra splendida regione, intanto Corriere Adriatico, alberghi, niente prenotazioni, gli operatori chiedono date certe, almeno sul coprifuoco, ancora fissato, lo ricordiamo, le ore 22, intanto l'Europa opta per altre mete. Bandiera blu, via libera a Pesaro, Fano e Gabiccia, il 10 di maggio la verità sull'auspicabile in plain. Mentre a centropagina la clientela, la scegliamo noi, sono le risposte, è la risposta dei bagnini, la categoria dei bagnini peseresi, al sindaco di Pesaro Ricci, che come vedremo tra poco, anche questa mattina, ribadisce l'invito ai concessionari di concedere spazi, ombrelloni, anche alle comitive di ragazzi. Al momento tagliate fuori esami e visite, l'effetto Covid ha dimezzato gli ambulatori, adesso che la terza ondata di Covid sta placandosi, oltre al recupero dell'attività chirurgico-ospedaliera, bisognerà pensare a riportare i livelli di prestazioni diagnostiche che ambulatoriali a livelli anti-Covid, cioè la gente per paura di prendersi il Covid non va più in ospedale, non va più negli ambulatori a farsi visitare. E quindi per chi ha, insomma, problemi, la situazione potrebbe peggiorare, e quindi problemi di salute, quindi la situazione potrebbe peggiorare, e allora l'invito è quello di farsi coraggio e continuare la prevenzione, continuare a farsi visitare, vedere un po' come uno sta, insomma. C'è ancora caos all'ex Ristò, invece, colpa del portale, l'aiuto di Gradara, parliamo ovviamente di vaccini, così come vaccini in farmacia, si parte da sette con le comunali, quelle sono le farmacie comunali di Pesero, poi a Valefoglia, dove si è in zona arancione, rafforzata, verso la zona gialla, contagi stazionari, ma la regione ancora tace. Artisti marchigiani riuniti per il primo film regionale, al via a Fano le riprese di criminali, si diventa il soggetto sul furto di una grande opera d'arte. E poi transizione ecologica, la diocesi di Fano chiede il cambiamento. Il Carlino di Pesero, prima i turisti, poi i ragazzi. Foto notizia, la polemica sugli ombrelloni negati alle comitive di giovani, vaccini, rischio rinvio per 5.000, mancano le dosi, da domani potrebbero saltare gli appuntamenti fissati per le seconde dosi. E poi ristoratori multati, uno aveva fatto entrare i clienti, perché, dice lui, si giustifica. C'era vento, politica, segreteria, PD, Gostoli, verso l'addio. E poi al Bramante, studenti alla festa, tampone rapido prima di tornare in classe, osservati speciali arancione rafforzato, sono tre adesso i comuni che tremano, mentre il nodo ferie per gli infermieri caccia i rinforzi e gli effetti della pandemia aspettativa di vita, brusco calo, almeno un paio d'anni. Chiama il 118, le doglie, poi partorisce in casa all'arrivo dei sanitari, la bimba era giannata, il medico stanno bene, dicono, sia lei che la mamma. Questo è successo a Pian di Meleto, mentre il calcio di serie T, di serie C, vai a Alma, sei artefici del tuo destino, il presidente del Fano, Fatò, Fidani, dà la carica in vista della doppia sfida per i play-out. Poi il carriero di Ancona in 5.000 rischio stop, consegna in ritardo, mancano i vaccini, prenotazioni in bilico. Ma la notizia drammatica è sempre sul carriero di Ancona, da Falconara, nasconde la madre morta da tre mesi. E allora partiamo da qui, da questa notizia. Occulta la madre morta, incassa la pensione, un 47enne avrebbe nascosto il corpo in casa per tre mesi, per poi usare il banco della donna. L'articolo è di Marina Verdenelli, sul carriero di Ancona, pagina 7. Per tre mesi ha continuato a tenere la madre morta in casa, utilizzando la sua pensione come se nulla fosse. A spezzare poi la macabra situazione che si era creata in un appartamento di Via Flaminia, a pochi passi dalla stazione di Falconara, è stato l'intervento della figlia della donna defunta, che la sera del 1 maggio è salita al piano di sopra, trovando la madre Graziella Vannini, 78 anni senza vita e il corpo in uno stato avanzato di decomposizione. È stato il fratello, un 47enne disoccupato, ad aprire la porta attorno alle 19 appunto alla sorella, dopo che più volte nei giorni scorsi lei aveva provato a chiedere informazioni sullo stato di salute della madre. Lui però era sempre rimasto vago. La 78enne, vedova da 10 anni, era gravemente malata ed era anche in cura da diversi anni. Negli ultimi tempi era allettata e non autosufficiente. I militari, il figlio della defunta, avrebbe detto vi avrei chiamato domani. Poi si è chiuso in un silenzio, piangeva, a un certo punto ha raccontato che la madre era morta circa 90 giorni prima, quindi tre mesi prima. L'anziana aveva l'addebito della pensione in banca e il figlio, che si occupava di lei, aveva utilizzato il banco per fare la spesa e pagare le utenze. L'uomo per ora è indagato a piede libero per occultamento di cadavere e truffa ai danni dello Stato. La famiglia, così come scrive il resto del Carlinio di Ancona, era sconosciuta ai servizi sociali. Gli alberghi chiusi e senza prenotazioni, mancano date cerche, certe le scure del coprifuoco ancora senza orizzonte, scoraggia ogni ipotesi di vacanza, gli operatori sono sconfortati, sarebbe importante vaccinare le categorie dell'ospitalità. Nel Pesarese il comparto dell'ospitalità ha a disposizione 12.751 camere, l'accoglienza senza la ristorazione dà occupazione a 4.500 addetti. Il settore alberghiero, come vedete in questo riquadro, offre 8.436 camere e da lavoro ad oltre 2.950 addetti. Mentre i rappresentanti degli albergatori, per esempio il fanese Luciano Cecchini, dice noi siamo fermi, i turisti scelgono altre mete europee, mentre sotto Oliva, Fabrizio Oliva dell'Associazione Albergatori di Pesaro, dice incertezze pesanti sulle coperture assicurative da Covid, mentre Adolfo Ciuccoli dell'Asso Turismo Confesarcenti dice il nostro paese non ha l'immagine di un posto dove andare sicuro. Una stagione dunque in incognito, ricadute sulle assunzioni, se i gestori vivono nell'incertezza, per i dipendenti è ancora più difficile. Intanto sul riconoscimento, la bandiera blu, questo è il tempo dei riconoscimenti, il vessillo è sicuro per le città di Pesaro, Fano e di Gabice. L'effetto Covid su visite ed esami, saltati tre consulti oncologici su quattro, come ha inciso la pandemia su diagnostiche ambulatori, il confronto regionale tra settembre 2020 e gennaio 2021, prestazioni dimezzate per cardiologia, gastroenterologia e ortopedia, mammografie ed ecografie bilaterali a meno 22%. Caos all'ex Risto di Pesaro, colpa del portale, ma parte l'iter per aprire un hub, un centro vaccinale anche a Gradara. Ieri alla Torraccia di Pesaro, tante rinunce per l'utilizzo del vaccino AstraZeneca, Gasperi conferma lo spazio palestra. Il Carlino, vaccini a secco, mancano le dosi Pfizer, richiami a rischio, rinvio per 5.000 persone. Ieri all'ex Risto, prime dosi con AstraZeneca al rallentatore, una ogni 10 minuti agli over 65, ma si sono avuti ancora una volta molti rifiuti. Tant'è che leggevo proprio sulle pagine nazionali che il generale figliuolo vorrebbe AstraZeneca a questo punto anche a chi ha meno di 60 anni. Però, come vedete, insomma, si viaggia molto, molto a vista. E queste notizie non fanno certamente un giorno sì, un giorno no, un giorno va bene per chi ha 65, un giorno va male. Insomma, non ci siamo, ma comunque poi ognuno giustamente farà le proprie valutazioni. Il bollettino, intanto, una sola terapia intensiva, zero vittime, ma ancora ci sono 30 contagi. All'ospedale Marche Nord, questa è una buona notizia, è rimasto solo un reparto di terapia intensiva Covid con 15 posti, che non sono tra l'altro neanche tutti occupati, mentre sono tre i reparti subintensivi. Nonostante questo, non è ancora il caso di rifiatare, perché anche ieri nelle Marche purtroppo sono morte sei persone, nessuna però residente nella provincia di Pesero e Urbino. Centro vaccini per aziende, in lista a Fano c'è la cooperativa Tre Ponti, un sopralluogo di Moreno Bordoni della CNA, dice un posto ideale per convogliare migliaia di persone, al vaglio anche l'area dell'aeroporto e del Fano Center. Gli industriali con Papalini, dice il problema adesso non sono i siti, ma la fornitura delle dosi che le dovrebbero aumentare. Poi la cronaca non dava notizie da tutto il giorno, un'anziana è stata trovata in una pozza di sangue, venerdì i familiari non erano riusciti, come spesso accade purtroppo, per tutto il giorno a contattarla, venerdì il telefono ha sempre squillato a vuoto in casa di questa nonnina fanese di 80 anni e così la sera è scattato l'allarme al 113 e purtroppo appunto è stata trovata in una pozza di sangue. Il mistero del sangue è stato subito svelato dall'esame autoptico effettuato dal medico legale, un epistassi, un'emorragia nasale, conseguente ad una trombosi che per la donna in quel momento solo in casa è stata purtroppo fatale. Vaccini in farmacia si parte da sette, le farmacie saranno sette, primo step affidato a quelle comunali, stiamo parlando delle farmacie comunali di Pesero, restano le incertezze per le mancate indicazioni della regione sull'arrivo del siero e sul target affidato appunto alle farmacie, cioè chi potrà farlo in farmacia ancora non si sa. Ombrelloni negati alle comitive di ragazzi, anche qui una polemica che riguarda Pesero, i bagnini, dobbiamo accontentare i turisti, rispondono al sindaco, rifiutate le richieste di molti giovani e dopo l'appello di Ricci parlano alcuni titolari degli stabilimenti balneari cittadini. Abbiamo meno poste a causa dell'erosione e delle regole antivirus, peraltro dobbiamo evitare che si formino gruppi troppo numerosi. Ecco perché, insomma, stanno dicendo appunto che in sostanza, come scrive il Corriere Adriatico, i clienti li scegliamo noi diritto che non si discute. I bagnini associati replicano dunque la richiesta di videomessaggio del sindaco per le comitive di giovani, non c'è posto e non possiamo fare i controlli. Dunque non vogliono rischiare i bagnini a dare questi ombrelloni, come si faceva una volta, dove nessuno fiatava, anzi, a queste comitive, che spesso sono anche molto numerose, ombrelloni prenotati per 4, ma alla fine si ritrovano sempre in 10. Andiamo a Vallefoglia, dal Corriere, zona gialla, ultime 24 ore di attesa, contagi stazionari, ma tutto tace, amministrazioni, residenti, attività ieri hanno aspettato in vano la comunicazione della Regione. Sono buone però le probabilità che da domani anche il comune di Vallefoglia, in coppia con quello di Montellabate, si lascia alle spalle le restrizioni della microzona rossa o arancione rafforzata per diventare giallo, come il resto della Regione. Intanto controlli nei punti di ingresso di Montellabate, aperti 300 metri più là, baristi imbufaliti, dal 2 più 6, il 1 maggio dice è stato un disastro, derivata pure la tassa tarida a pagare. A sinistra i controlli, al confine tra i due comuni, a destra il titolare di questo bar, 2 più 6, sconsolato, in cui dice in zona arancione è permesso solo l'asporto. Bastava fare qualche metro appunto per cambiare comune, fare colazione invece tranquillamente o quasi tranquillamente seduto al bar. Tra l'altro, chi va a fare colazione in questo momento sarebbe bene e soprattutto si sede fuori, perché dentro non ci si può stare, si può stare solo fuori, ecco, ci vorrebbe un po' di buonsenso. Cioè, quando uno va a fare colazione al bar, non è come prima, che ci può stare lì, può leggere il giornale, può stare mezz'ora seduta, formarsi pure la sigaretta. Allora, si va, si siede, si mangia, si va via, si lascia il posto a tutti gli altri. Però c'è gente che non capisce questo meccanismo e pensa di vivere da solo nel mondo. Ecco, questo lo diciamo perché sono cose che ci segnalano, ci dicono e noi le riportiamo chissà magari con la speranza che qualcuno capisca. Ah, non ci avevo pensato. In 95 la festa delle quinte superiori e adesso per questi ragazzi che hanno festeggiato, ovviamente avendo fatto assembramento, per loro è necessario il tampone prima di tornare a scuola. Sono i ragazzi del Bramante Genga di Pesolo che hanno partecipato al raduno per i 50 giorni della maturità. La preside ha imposto due giorni di didattica a distanza quindi standosene a casa, domani però faranno il test rapido per rientrare in classe. Allora, da Urbino invece la notizia con questa fotografia del ballerino guerriero così come è stato ribattezzato, ovvero Ivan Cottini che insieme a Lucentini, Cipriani, Stefano e Cancellieri insomma hanno posato in questa fotografia Cottini che è andato dal ministro, il ballerino è stato ricevuto a Roma dalla leghista Stefani insieme al consigliere cancellieri rassicurato sul disegno di legge per l'inserimento di queste figure in un quadro giuridico di cautela. Queste figure, quali figure? Quelle che si occupano, questi familiari che si occupano delle persone appunto malate in casa, quindi anche per loro c'è questo questo quadro giuridico che si va delineando che serve appunto a tutelarle. Sono i caregiver o cargiver come vi pare. Poi ultimo il saluto a Simoncelli, oggi l'ultimo saluto a Simoncelli, ristoratore e anima ducale, siamo sempre nel Corriere di Urbino, commozione del sindaco Gambini, andavo da lui sempre per capire. Gambini, Gigi Simoncelli, lo vedete in questa fotografia, i suoi funerali si terranno oggi alle 15 in Duomo per poi proseguire al cimitero monumentale di San Bernardino. Andiamo adesso invece sulla pagina di Urbino, pagina 20, anche qui, Cottini dal Ministro, Ministro Stefani, per il caso dei caregiver, il modello e ballerino è andato a sollecitare l'interesse del governo per coloro che danno sostegno a chi si trova in situazioni svantaggiate. Poi da Fossobrone abbiamo un tesoretto, parliamo di bilancio comunale per opere pubbliche, il sindaco Bonci replica il consigliere d'opposizione Chiarabilli, stanziamenti per 2 milioni e 680 mila euro. Tra l'altro mi pare che lunedì prossimo ci sia proprio Bonci qui in, giusto Riccardo? Sì esatto. Ecco, ci sia proprio Bonci qui lunedì prossimo a Primo Cittadino. Mentre sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico c'è grande fermento sul litorale, parliamo anche qui di stagione balneare, stabilimenti pronti a metà mese, concessionari fiduciosi sulla stagione, Fano invitata alla cerimonia della bandiera blu, quindi anche qui vedete ufficiale, il vessillo sventolerà anche quest'anno e poi il Corriere ha intervistato alcuni concessionari di spiaggia che dicono più o meno attendiamo che venga spianata tutta la spiaggia per alzare gli ombrelloni, dice Matteo Renzi De Bagni Carlo poi lavoreremo con italiani e fanesi gli stranieri li attendiamo ormai il prossimo anno Silvia Tarini De Bagni Peppe Bagni Maurizio crediamo che quest'anno la stagione potrà essere più lunga dice Nicolo Tombari poi Angela Montalbini Magliarzilla che dice l'arenile grandissimo mantenute distanze superiore a quelle che ci vengono imposte dal regolamento Covid sulla pagina di Fanno Ancora del Corriere modello di sviluppo sbagliato serve la transizione ecologica la diocesi si interroga sul lavoro e ambiente Donughi presenta la settimana sociale poi stroncato non malore nel fiume la salma sarà portata in Moldavia nulla osta la sepoltura dopo l'esame esterno del cadavere del pescatore poi il miglior testimonial Panichi in carrozzina domenica percorso tutta la Colle Marathon in carrozzina punto le marche si danno al cinema l'esperienza fanese apre la via presentata la produzione di Criminali si diventa in città tra una settimana dunque con il ritorno della bella stagione anche il cinema non solo in programma la riapertura delle sale cinematografiche ma si torna ad effettuare anche nuove riprese grazie alla CNA di Peserurbino che ha istituito del settore cinema e audiovisivi si è riunita una nuova truppa che ha dato origine alla prima produzione esecutiva della regione Marche si tratta di una produzione che vede la collaborazione e la contaminazione professionale di diverse realtà cinematografiche tutte della nostra regione e poi sempre sulla pagina di Fano questa volta però del resto del Calino che qui Sassonia incompiuta scogliere così mareggiate più violente si parla appunto di questo tratto di mare senza le scogliere l'ira dei bagnini la chiatta se n'è andata da più di una settimana lasciando le barriere a metà Ilari della Lega accusa dal comune solite promesse da marinaio l'assessore replica sono arrabbiato anche io dove è andata sto pontone sta chiatta non si sa probabilmente ha finito i sassi quindi è andata a riprenderli in Croazia forse chi lo sa hanno lavorato due o tre giorni poi non si è più visto nessuno se ne sono andati ah no se ne sono andati a Porto Recanati intanto Movida nel Mirino sempre in zona mare controlli e assembramenti notificato al Green Bar l'obbligo di chiusura il titolare dice è stata la pioggia a creare problemi la gente seduta ai tavoli cercava riparo ma c'erano pure dei passanti che si sono riparati all'interno del bar Sosta Villa Marina invece torniamo a Pesero prima l'illuminazione a giugno l'apertura affidati i lavori ad una dita locale per il ripristino e la manutenzione delle luci quest'anno il parcheggio del lungomare sarà fruibile anche nelle ore notturne sempre sul Corriere anzi no questa volta sul resto del Carriero da Fano Valle del Cesano pagina 17 c'è ancora la questione della ferrovia che sembra il problema con tutti i problemi che abbiamo ancora riesce a trovare spazio tutti i giorni sul giornale è quasi un mistero ma comunque basta favole la ferrovia non si riattiverà mai il vice sindaco di Colle del Metauro Giuliani replica Uguccioni sono strumentalizzazioni il vero progetto è quella della ciclovia del Metauro poi centro disabili vaccinati gli utenti tutti hanno ricevuto prima e seconda dose compresi anche i familiari e caregiver intravediamo la normalità mentre per quanto riguarda la politica segreteria del PD Gostoli se ne sta per andare Giovanni Gostoli segretario regionale del PD dimissionario ma finora in sella come traghettatore ebbene Gostoli va verso l'addio ora Ricci gli apre le porte di Ali traghettatore dopo la pesante sconfitta alle elezioni regionali si profila la sua uscita di scena da sud l'ex parlamentare Agostini potrebbe lanciare la candidatura di Curti sindaco della Scolano e questa è la politica mentre ancora dalle pagine del Carlino chiama il 118 perché ha le doglie e alla fine partorisce prima dell'arrivo dei sanitari la bimba quando sono arrivati infatti era già nata e la mamma distesa a terra su una coperta mentre il papà piangeva di gioia e di paura mamma mia incredibile dice fate presto venite mia moglie sta per partorire qui ora per terra e noi non sappiamo come si deve far per far nascere un bambino ma alla fine insomma è andato tutto bene e sono momenti davvero straordinari addio a Eliana signore di classe ricordo di Gianni Antonini con lei e Nicola Ginestra un luogo indimenticabile la sua presenza in sala premurosa e gentile andiamo ancora sulla pagina del Corriere questa volta da Senigallia il ponte 2 giugno il cantiere dunque riparte struttura completata entro il mese ieri anche l'anniversario tra l'altro dell'alluvione di Senigallia mi pare fossero sette anni dal 17 maggio una settimana di chiusura al traffico e poi sotto al via il rifacimento della fontana della Rotonda stiamo parlando della manutenzione appunto a questa fontana in piazzale della Libertà a Senigallia e con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa un po' di appuntamenti per quanto riguarda il nostro palinsesto da dirvi allora intanto alle 17.30 non ci sarà il Rosario dalla Cappellina qui di Fano TV dedicata alla Divina Misericordia ma avremo la Santa Messa da Loreto poi alle 18 invece in diretta dalla Basilica dell'Annunciazione in Israele il Santo Rosario poi c'è guarda chi c'è questa sera alle 21 dopo il Tg delle 20.30 l'ospite sarà la psicoterapeuta Elisabetta Petrelli poi alle 21.30 invece un approfondimento in studio sulla rassegna impronte femminili con l'assessore alle pari opportunità del Comune di Fano Sara Cucchiarini ed è tutto grazie per averci seguito l'augurio di una buona giornata Grazie a tutti